Si è tenuto sabato 26 gennaio 2019 in piazza San Marco a Licusati, frazione di Camerota, l'incontro pubblico con la consegna ufficiale dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del Ciglioto. Ringrazio innanzitutto tutto il popolo di Licusati per aver oggi partecipato a questo incontro, ringrazio l'amministrazione comunale di Camerota, l'assessore Saturno, la delegata Minmaiannuzzi della frazione di Licusati e un grazie di vero cuore sentitissimo al nostro presidente della provincia, il dottor ingegnere Strianese, per la straordinaria sensibilità che mi ha dimostrato sin dal primo incontro, dove immediatamente si è reso conto dell'importanza strategica della strada del Ciglioto. Sì, una giornata importante per questo territorio, per Licusati, per Camerota. È un intervento atteso perché si tratta di una strada strategica, un costone roccioso, diciamo, che deve essere messo in sicurezza. E qui, grazie a un finanziamento della regione Campania, sui POR Campania, che quindi ci ha trasferito la regione, il governatore De Luca, riusciamo a aprire questo cantiere, a consegnare queste opere, che dureranno alcuni mesi, parliamo di 400 mila euro di lavori, un quadro economico complessivo di circa 600 mila euro. Sì, diciamo oggi che con questo intervento del Ciglioto di Licusati, e quindi del Comune di Camerota, si corona un altro impegno di questi anni della provincia di Salerno, che voglio ricordare, con la legge del Rio, la provincia di Salerno ha avuto una riorganizzazione purtroppo, ahimè, negativa, però chi vi parla da quattro anni che ricopre questo ruolo non ha mai perso, diciamo come obiettivo, quelli che erano gli interessi concreti del territorio. Sì, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, e devo dire anche ad una rinnovata partnership con la provincia e con la regione. Finalmente, diciamo, la macchina comincia a funzionare, ossia tra i vari enti c'è una piena disponibilità alla collaborazione. Licusati oggi in particolare ottiene un grandissimo risultato, lo ottiene la comunità di Camerota tutta, quella strada ha un grandissimo significato, non soltanto di viabilità. Noi vogliamo attenzionare questa strada che per noi ha una duplice veste, prima di tutto dal punto di vista della viabilità, ma è importante anche per quello che dà a livello di ritorno per quanto riguarda l'immagine del comune di Camerota. È una meravigliosa finestra sulla valle del Mingardo. È un'assunzione di responsabilità che abbiamo doverosamente tributato anche a un concittadino venuto a mancare, di Licusati, che è Marco Saturno, già cantoniere della provincia di Salerno, che tanto teneva a quest'opera, un'opera che mette in collegamento anche i comuni limitrofi, e che ha un'importanza strategica oltre che un'operazione di sicurezza che credo che sia un obbligo per noi amministratori.